Ciao ragazzi in cerca di lavoro, io voglio dare un consiglio a chi ancora deve iniziare la sua prima occupazione. Non fate come me. Che quando ho cominciato a lavorare con i miei colleghi, ho cominciato subito a parlare della vita, della morte, dell'universo, delle stelle, dei pianeti, dei neutrini addirittura ho parlato, dei neutrini! Ho creato solo scompiglio nell'azienda e infatti i colleghi hanno cominciato subito a dire che io ero un poeta e questo andava bene, quando mi chiamavano poeta andava bene, ma poi subito dopo hanno cominciato a dire che i miei discorsi erano discorsi di affroccio, mi hanno fatto stare tanto, tanto male, mi hanno fatto sentire diverso. Quindi ho capito subito che gli argomenti di discussione nell'ambiente di lavoro sono tre, solo tre, la figa, le automobili e il calcio. E anch'io ho cominciato a parlare così per otto ore al giorno, per più di 2300 ore l'anno! Quindi ragazzi ricordatevi, negli orari di lavoro, figa, automobili, calcio, figa, automobili, calcio, figa, automobili, calcio! Ma non vi preoccupate, tanto la vita finisce subito, non c'è problema! Ciao ragazzi, ciao, 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 ciao!